Sabato e domenica scorsi il cardinale ha compiuto la visita pastorale nella parrocchia di San Lazzaro di Savena, la comunità con 11.000 abitanti eretta dal parroco Monsignor Domenico Nucci, vice parroco Don Lorenzo Brunetti. Come di consueto l'arcivescovo ha dedicato parte della visita all'incontro di alcuni ammalati nelle loro case, poi gli incontri con i bambini, i ragazzi del catechismo e con i loro genitori. In famiglia, detto l'arcivescovo, si educa quasi senza accorgersene con il dialogo, la condivisione della vita, il tempo dedicato ai figli. All'oratorio San Marco il cardinale ha incontrato i ragazzi, i giovanissimi e il gruppo simpatia e amicizia. Nella chiesa parrocchiale l'unica santa messa domenicale ha visto poi tutta la comunità riunita attorno al successore degli apostoli. Il cardinale ha raccomandato attenzione alla catechesi degli adulti, alla formazione dei giovani e al sostegno alla famiglia nelle sue difficoltà. La cooperazione tra le varie componenti della comunità sotto la guida del parroco.